Dunque tanti rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Niente svolta, ma sono evidenti i progressi nello sviluppo della manovra e negli ultimi 16 metri. I legni e le parate di Perisane, migliore in campo, hanno salvato i friulani. Ben nove tiri in porta. Non accadeva da tempo immemore. Tutto ciò stride però fortemente col risultato finale, 0-0. Approccio sbagliato e diversi rischi contro un avversario in crisi di risultati ha rimaneggiato. Il meglio dei Bianchazzurri nella ripresa. L'atteggiamento fondamentale non è mai determinato dal sistema di gioco. Pur giocando a quattro, nella prima parte la squadra ha fatto fatica perché bassa e lunga. A rilevare è sempre la giusta e corretta distanza tra i reparti. Cosa avvenuta invece nei secondi 45 minuti. Il Pescara è venuto fuori alla distanza, ad incidere la condizione atletica. Una delle tante criticità delle prime nove giornate. Una zavorra ereditata da Breda, che sotto questo profilo ha lavorato molto bene. Grassadoni ha fatto il resto, ma quanto pesa il disastroso avvio di stagione. A maggior ragione, il rammarico aumenta. Passi avanti significativi. Rimane tuttavia il problema del gol. Nella fase decisiva del campionato non è affatto un dettaglio, tutt'altro. Si spera nel recupero del miglior Setter, ancora in ritardo, e del miglior Giannetti. Sempre prezioso il lavoro di Odegaard, che però nel primo tempo è stato assistito poco e male. Di contro, segnali assai incoraggianti da Galano e Maestro. A dieci giornate dalla fine, a trasmettere fiducia e la crescita generale. Ulteriori conferme sul piano della solidità. Appena due reti incassate, ben tre gare su cinque della gestione Grassadonia, senza subire gol. Conferme sotto il profilo della convinzione e dell'autostima. Naturalmente non può bastare. Salvezza diretta, lontanissima, nove punti. Sempre quattro, invece, le lunghezze di ritardo dal quarto ultimo posto occupato dal Cosenza, che, sebbene ridotto in dieci, è riuscito a strappare un prezioso risultato di parità sul campo della Salernitana. In sintesi, bisogna necessariamente tornare a vincere. Martedì prossimo, alle 21, spareggio all'Adriatico contro l'Ascoli di Sottilla, capace di centrare la guida di Biancazzurri lo scorso agosto in condizioni complicatissime. Una salvezza da ricordare. Bianconeri terzultimi, privi dell'ex Brosco per squalifica. E a digiuno di successi dallo scorso 5 febbraio. Uno a due a Lecce. Solo quattro pareggi nelle ultime sette gare. Sarà il crocevia della stagione.